Amici carissimi dell'Umbria Verdigiada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con la legge a portata di tutti. Ringrazio sempre l'Avvocato Francesco Gagliardi. Oggi con l'Avvocato parleremo di guida in stato di ebrezza. Avvocato, quali sono le norme? Buonasera a tutti. La norma di riferimento è l'articolo 186 del Codice della Strada che è stata riformata negli ultimi anni in senso molto più restrittivo e punitivo. In quanto il legislatore ha voluto prevedere delle pene più severe per coloro che si mettono alla guida delle autovetture in stato di ebrezza oppure sottoposti a sostanze stupefacenti. L'articolo 186 prevede tre tipologie di reato che variano a seconda della gravità del tasso alcolemico che è stato individuato nel corpo dell'individuo. Tra 0,5 e 0,8 grammi litro la norma prevede una sanzione amministrativa che l'ammenda e nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. La lettera B del 186 prevede per un tasso alcolemico che oscilla tra gli 0,8 e l'1,5 l'arresto fino a 6 mesi con la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno. L'ipotesi più grave è quella prevista dalla lettera C dell'articolo 186, cioè l'ipotesi in cui il tasso alcolemico supera l'1,5 grammi litro. Allora in questo caso vi è la possibilità dell'arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente di guida fino a 2 anni e attenzione che se il veicolo è di proprietà del soggetto che viene sottoposto e fermato in conseguenza dell'utilizzo di alcol vi è anche la confisca dell'autovettura. Avvocato, quali sono le conseguenze per l'automobilista e naturalmente quali saranno i rimedi? Allora, l'automobilista che incappa nella violazione dell'articolo 186 del soggetto della strada va incontro a un vero e proprio procedimento penale, ad un processo penale per guida in stato di ebrezza. E da questo procedimento penale può in qualche modo uscirne attraverso uno strumento alternativo che è quello della richiesta demessa alla prova. Questa richiesta può essere effettuata tanto nella fase delle indagini preliminari quanto al momento dell'apertura del giudizio. Sostanzialmente si tratta della richiesta di effettuare dei lavori di pubblico utilità presso degli enti che sono qualificati e accreditati presso il tribunale e sperita la quale il reato può essere estinto. Allora, in questo caso è chiaro che per l'automobilista è più utile accedere a questo strumento alternativo piuttosto che affrontare un processo penale che al di là delle lungaggine può portare ovviamente ad una condanna anche importante. Ringraziamo l'Avvocato Francesco Gagliardi con la legge a portata di tutti. Vi ricordo che lo studio legale Gagliardi e Lupini si trova in Via Madonna dei Perugini numero 1 a Gubbio, Perugia. Telefono 075 46 54 185. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.